bene amici facciamo la seconda parte, la seconda lettura ma è diverso tempo che stiamo seguendo le meditazioni sul pulgolario negli scritti mistici per oggi si apre una autrice fuori del comune che è Santa Margherita Maria Alacoc la grande Santa Margherita Maria Alacoc qui c'è anche un breve profilo biografico che però lo mettiamo 1647-1690 è una delle grandi, fortemente le più grandi sante assistite nel corso della storia per chi non lo sapesse che sta seguendo la diretta ricordo che Maria Valtorta vide in visione le tre donne che Gesù disse essere state le sue tre più grandi innamorate di tutto il corso della storia della chiesa almeno fino a quando Maria Valtorta ebbe la visione cioè gli anni 50 adesso non sappiamo se è nato qualcuno che la superate un po' difficile una era in ordine cronologico piccolina Gertrude da Efta detta alla grande vissuta nel XIV secolo nel 1300 l'altra è la Santa Margherita Maria Alacoc e l'altra la Santa Veronica Giuliana quasi Giuliani quasi contemporanee Margherita faceva in Francia quello che Veronica faceva in Italia viceversa e avverto che anche qui le visioni che ebbe del purgatore Santa Margherita Maria Alacoc sono abbastanza impegnative quindi se qualcuno c'è lo stomaco un pochino debole meglio che cambia canale e dopo si ricollega l'ultima parte del rosario riguarda la la diretta invece poi i podcast come sempre andranno registrati e quindi ok detto che abbiamo fatto questa breve premessa cominciamo le registrazioni e la lettura da Sette del Dio Oriente la meditazione sul purgatorio negli scritti mistici di Don Giulio Giacometti e Don Piero Sessa volume primo meditazione sì la dottrina sul purgatorio la visione sul purgatorio di Santa Margherita Maria Alacoc 1647 1690 il Sacro Cuore e le mie virgolette amiche penanti testi 1673 si flagella per le anime del purgatorio quando mi accade di fare di mia scelta e senza l'ordine suo o della superiore a quelle specie di mortificazione e di penitenze egli non mi permette nemmeno di offrirgliele me ne corregge imponendomi la pena proprio con quelle altre mancanze ciascuna delle quali trova la sua particolare pena nel purgatorio dove mi purifica per rendermi meno indegna della sua divina presenza e operazione infatti tutto in mera opera sua una volta per esempio avendo finito un ave maristella di disciplina secondo l'ordine che mi era stato dato e gli mi disse ecco la mia parte e siccome io continuavo senti ecco tu ora fai la parte del demonio naturalmente smesi subito un'altra volta facevo la disciplina per le sante anime del purgatorio dal momento che io ne vogli fare più di quanto ne avevo permesso esse mi circondarono lamentandosi perché le colpivo ciò mi fece prendere la risoluzione di morire piuttosto di oltrepassare anche per poco i limiti dell'ubbidienza oltretutto egli mi ne dava la penitenza quando dice egli capiamo che ci riferisce che si riferisce a domine Dio ovviamente quindi al nostro signore Gesù Cristo una volta dunque mentre ero davanti al Santissimo Sacramento avendo trovato un po' di tempo libero poiché le occupazioni che mi si davano non me ne lasciavano affatto mi senti investita della divina presenza ma così fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo dove ero e mi abbandonai a quel divino spirito consegnando il mio cuore alla forza del suo amore egli mi lasciò riposare a lungo sul suo petto divino dove mi fece conoscere le meraviglie del suo amore e di segreti inspiegabili del suo sacro cuore che mi aveva sempre tenuto nascosto fino al momento in cui egli me lo manifestò per la prima volta lo fece in modo così effettivo e sensibile che non mi lasciò alcun dubbio per gli effetti che questa grazia produsse in me tuttavia temo sempre di ingannarmi in tutto ciò che dica venire in me ora teniamo presente quindi questa penitenza fatta per le lene del purgatorio e questo è un insegnamento ovviamente non soltanto sull'importanza perché la disciplina per chi non lo sapesse sono i fragelli è una forma di mortificazione particolarmente efficace per espiare peccati di impurità un po' come il digiuno vedete è importante per una religiosa ovviamente attenersi strettamente alle obbedienze ricevute perché se ti viene detto fare questo esercizio per un certo tempo stabilito aveva le marie stelle o un inno adesso non so se lo recitavo o lo cantava finito l'inno si deve smettere quindi non si deve fare di più di iniziativa propria perché primo si fa la parte del demonio e secondo questa ancora più caruccia gli appagano gli anni del purgatorio che anziché dagli sull'uovo quelli già soffrono tanto si beccavano le ure un po' di frustate che erano quelle in eccedenza che per eccesso di zelo si dava margherita possiamo vedere sì un altro paio di carafetto che si intitola tre mesi di purgatorio un'altra volta mentre ero davanti al Santissimo il giorno del corpus domini di improvviso mi si presentò davanti una persona tutta avvolta dalle fiamme i cui ardori mi penetravano così fortemente che sembrava bruciassi con lei lo stato pietoso in cui mi fece vedere che si trovava in purgatorio mi fece versare molte lacrime mi disse che era quel religioso benedettino che una volta aveva ascoltato la mia confessione e mi aveva ordinato di ricevere la Santa Comunione per compensarlo di un consiglio tanto utile Dio mi avrebbe permesso di rivolgersi a me perché gli dessi sollievo nelle sue pene chiedendomi per tre mesi tutto ciò che ero potuto fare soffrire glielo promisi dopo avermi ottenuto il permesso dalla superiore mi disse che la prima causa delle sue grandi sofferenze ecco qui adesso comincio a ad agitarmi un po' io era aver preferito il proprio interesse alla gloria di Dio per troppo attaccamento alla sua reputazione un problema per gli uomini incaricati non badare la reputazione se si sta di mezzo alla gloria di Dio cioè a quello che gli altri pensano di noi confratelli e anche fedeli laici la seconda la mancanza di carità verso i confratelli e la terza l'eccessivo affetto naturale verso le creature e l'averlo manifestato loro nei colloqui spirituali cosa che dispiace molto a Dio mi sarebbe difficile raccontare quanto ebbe a soffrire in quei tre mesi non mi lasciava mai e mi sembrava di avere il fianco presso cui stava avvolto in una fiamma di fuoco con dolori così acuti da gemere e piangere quasi continuamente la superiore presa da compassione mi dava buone penitenze soprattutto di disciplina poiché le penne e le sofferenze esterne che mi si facevano soffrire per carità davano molto sollievo alle altre che la santità d'amore imprimiva in me come un piccolo saggio di ciò che essa fa soffrire a quelle povere anime alla fine dei tre mesi lo revivi in maniera ben diversa al colmo della gioia e circonfuso di gloria se ne andava a godere l'eterna felicità ringraziandomi mi disse che mi avrebbe protetta davanti a Dio io mi ero ammalata però siccome la mia sofferenza scomparve con la sua guarì subito anche questo episodio si commenta da solo ed è molto edificante vediamo un altro magari forse l'ultimo una religiosa in un letto di fiamme una volta vidi in sogno una religiosa deceduta da molto tempo la quale mi disse che soffriva molto in purgatorio e che Dio le faceva soffrire una pena incomparabile cioè la vista di una sua parente precipitata nell'inferno mi svegliai a queste parole tra angustie così grandi che mi sembrava che quella mi avesse data le sue mi sentivo il corpo a pezzi tanto che riuscivo appena a muovermi ma siccome non si deve credere ai sogni non mi feci gran caso ma ella me lo fece prendere in considerazione anche se non volevo insisteva talmente che non mi dava tregua dicendomi di continuo prega Dio per me offri le tue sofferenze unite a quelle di Gesù Cristo per alleviare le mie dammi tutto ciò che farai fino al primo venerdì di maggio giorno in cui riceverai la comunione per sé per me scusate come feci col permesso della superiore ma la mia pena aumentò tanto che mi opprimeva senza che potessi trovare sollevo ne riposo l'ubbidienza mi fece ritirare per riposare ma appena fui a riposare nel letto mi sembrava di averla vicino a me che mi dicevo queste parole ecco ti ha letto comodamente sdraiata guarda me coricata in un letto di fiamme dove soffro mali intollerabili mi fece vedere quell'orribile letto che mi fa fremere ogni volta che ci penso perché il materasso era di punte acuminate tutte di fuoco che le penetravano nella carne mi disse che era a causa della sua pigrizia e nell'illigenza nell'osservanza delle regole e della infedeltà a Dio e poi mi si strazia il cuore con tettini di ferro incandescente e questo è il mio più crudele tormento e il pensiero di normolazione e di critica nei quali mi sono soffermata contro le superiore e ho la lingua mangiata da parassiti per punire le parole che ho detto contro la carità e per aver mancato di silenzio ecco la bocca tutta incerata ah come vorrei che tutte le anime consacrate a Dio mi potessero vedere in questo orribile tormento se potessi far loro provare la grandezza delle mie pene e di quelle che sono preparate a quante vivono negligentemente nella vocazione senza dubbio si comporterebbero ben diversamente osservando con esattezza i loro doveri e si guarderebbero dal cadere nei difetti che mi fanno tanto soffrire parei lamenti mi facevano versare torrenti di lacrime mi volevano dare qualche medicina allora mi disse sì pensa a dare sollevare ai tuoi mali ma nessuno pensa a dare a vivere i miei poi me un giorno di silenzio assoluto di tutta la comunità guarirebbe la mia bocca ulcerata un altro trascorso nella pratica della carità senza guarire in alcuna colpa contro di questa mi guarirebbe la lingua e un terzo senza murmurazione né critiche contro la superiore guarirebbe il mio cuore straziato dopo la comunione che mi aveva chiesta mi disse che gli orribili tormenti erano diminuiti poiché l'era stata detta una messa in onore della passione ma doveva restare ancora per lungo tempo in purgatorio dove soffriva le pene dovute alle anime tiepide nel servizio di Dio mi trovai liberato dalle mie pene e la mia ha detto che non sarebbe la di mia vita affatto finché non fosse consolata ecco non c'è molto da commentare avevo detto che era materiale un pochino incandescente quindi sta stasuora qui chiaramente lei vede le religiose le religiose così come i consacrati soffriranno un po' di più in purgatorio perché loro sono tenuti a maggiore perfezione per cui se non la conseguono ma anzi vivono in maniera tiepida o cadendo in questi teccati vi aspetta purgatorio lungo e doloroso io ho fatto un po' di tempo fa una categoria che è abbastanza storica dove ho detto un titolo un po' provocatorio che chiaramente però ha tirato come è sempre in questi casi un maggior numero di visualizzazioni che il purgatorio esiste e non è una sala d'aspetto è certamente un luogo dove si è raggiunti la salvezza se si entra a purgatorio quindi una volta che si è raggiunto l'obiettivo si può soffrire quanto uno vuole insomma no però sono sofferenze che se non fanno aumentare la gloria quelle vissute in purgatorio però sono purificatrici certamente è meglio alla luce di quello che abbiamo ascoltato cercare provare limitare quanto più possibile quelle fatti specie che avevano originato questa severissima e lunga pena di quest'anime purgatoria ecco quindi quello che abbiamo ascoltato è abbastanza forte riteniamolo non è certamente un nobile motivo aspirato al paradiso e alla salvezza dell'anima solo per evitare i tormenti il più nobile motivo è farlo per amore di Dio e perché lui lo merita la sua gloria ed è nostra santificazione però se non c'è altro che il timore di soffrire troppo in purgatorio ecco se questo lo si può trasformare in bene va bene anche questo nella consapevolezza che queste non sono favole ma purtroppo questi luoghi che ci attendono dopo alla fine della vita terrena esistono con certezza appunto purgatorio la cognato paradiso e purtroppo abbiamo sentito nella precedente lettura anche la reale possibilità dell'eterna dannazione a